Seconda partita della Legend con la Cia Poenze di Fabio Clemente, non mi ricordo il nome, l'ho letto là. Parte forte la Red Bull con un paio di belle occasioni sulle quali Courtois non cade ai pallonetti. Pallonetti sono tanto partiti, ma Courtois non cade alla blocca. Beckham, una diga veramente insuperabile, non pensavo avesse quella fisicità. Ma trova il vantaggio a fine primo tempo la Cia Poenze con Müller, quando su un'azione di percussione di Beckham, che sembrava Cassidy o K. Müller vince un rimpallo e spacca la porta con una bomba. Pressa tanto la Red Bull, si spinge in avanti, cambia modulo, passano 3-2, 3-2, con Oscar, Asensio e Fekir, dietro a Schurle e Cano. E proprio all'uscadere, quando la partita non mai sembrava finita, Oscar, con una bomba di prepotenza dal limite dell'aria, riesce a imprimere il pareggio di una bellissima partita, complimenti. Grazie 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 a tutti.